Ciao a tutti, io sono Stellina79, ovvero Stefania, mi occupo di quel che riguarda make-up e varie creazioni e vi auguro di passare delle buonissime vacanze in compagnia dei vostri cari o dei vostri amici, chiunque voi vogliate, al mare o in montagna, divertitevi, rilassatevi, fate tutto quello che volete fare, insomma. Io vi aspetto a pieno ritmo a settembre, andrò anche io in vacanza poi a fine agosto e aprirò nel frattempo un concorso. Ringrazio già tutte le nuove iscritte che vogliono partecipare, ringrazio le ragazze che hanno voluto partecipare a questa piccola iniziativa, a mia e di Vierte Dance Inside, Martina, un bacio a tutti, ciao, a presto! Ciao a tutti, sono qui per augurarvi buone vacanze, io tornerò un bel mesetto dalla mia famiglia in Abruzzo, perché io vivo in Germania e quindi le mie vacanze sono esclusivamente con la mia. Quindi vi auguro delle felici vacanze, ovunque voi siate, in montagna, al mare, in cortina, in città, o con buone vacanze a chi passerà un'estate intorno al fuoco con gli amici al mare, o semplicemente a chi vedrà un bellissimo tramonto romano, a chi resterà nella propria città, tra treni, bus, autobus, che spero arrivino in orario, a chi resterà stretto tra le braccia del proprio amore, o semplicemente passerà una bellissima estate con gli amici, unici e speciali, a chi verrà mordicchiato e consecchiato da le brunzare, a chi mangerà troppo e a chi prenderà troppo sole. Buone vacanze a tutti, un bacione, ciao! Ciao a tutti! Allora, questo video è un video per salutarvi, cioè un video di saluti, per augurare buone vacanze a tutti, sia a chi va in vacanza, sia a chi non ci va. A breve anch'io dovrei andare in vacanza, dovrò andare in vacanza necessariamente, cioè tra un paio di giorni ho un esame, quindi da lì sono libera e mi prendo una settimana di pace proprio. Non so se andrò qualche giorno da qualche parte, però l'importante è che non devo studiare per almeno una settimana, poi si riprende però vabbè, almeno una settimana, ci vuole. E niente, faccio in bocca al lupo anche a tutte quelle che come me stanno ancora dando gli esami. e niente, con questo è tutto e un bacio, ciao! Allora, ciao! Allora, ciao! Ciao a tutte! Allora, vi volevo augurare buonissime vacanze, divertitevi, prendete il sole, e io non vedo l'ora di andare in vacanza, ci andrò solo a fine luglio però. e niente, un bacione, ringrazio tutte quelle che mi hanno tenuto compagnia fino ad adesso, ringrazio anche tutte le mie amiche di YouTube che ho conosciuto appunto in questi mesi, auguro anche a loro buonissime vacanze, ci vediamo dopo le ferie allora, ciao! Ciao ragazze, allora questo qui è un video per, non poteva mancare questa frase, è un video per augurarvi delle bellissime, buonissime, serenissime vacanze. L'importante è che vi divertiate, che siete sereni dentro, che vi lasciate alle spalle i problemi che vi portate dietro, perché ragazzi, in fin dei conti, questa è la vita, è una volta che gira, quindi rilassiamoci. Questa estate è fatta per rilassarsi e vi auguro davvero di rilassarvi, di stare bene, di incontrare gente nuova che magari non lasciate soltanto in vacanza, ma vi portate magari delle belle persone che vi portate dietro, poi per il resto, per il vostro futuro. Vi auguro questo, perché queste sono le cose più belle. Vi auguro di sorridere tanto, di stare bene e di far sorridere gli altri. Questo è il mio auguro per voi, spero che state bene, questo è l'importante. E ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo quando sono dalle vacanze, quando ci torno anche io, con dei video, foto, pubblicate tutto. Un bacio ragazze, ciao! Questa non ci rilascia, ma è che marcando. Pronto, loretta tesoro? Sì, come va tutto a posto se è arrivata? Il tuo canale? Il tuo canale è tutto a posto. Sono io, lasciato me, ti pidi. Ti pidi e non ti pidi, ti pidi. E allora qui, ci sono io. E tu stai se ne controllo io. Ma dove sei che non prende manco una linea pittata? Sei al mare. Ma di sempre un zanzo, almeno beata, due ore di me, io sono un'ostra, non so, 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 non so. E non state qualche somigliato, siamo cugine. E io sono Bettina, la cugina di Miss Loretta. Adesso guardate, ragazzo, devo andare al mare, che mi devo prendere un pochettino di colo. Tesoro, non ti preoccupare, che sei truccoio, non c'è Miss Loretta che ci fa. Il truccoio, guarda come sei bella, stai un'ombra di una statua a farli. Mettiamo un poco di rossetto, che fa sempre molto sano, molto vivo. Non parla, è troppo emozionata. Salute alle ragazze. Augure le buone vacanze. Buone vacanze, ragazze. Ciao, io sono Erika, conosciuta come un'ombra di roba. Volevo augurare a tutti delle buonissime vacanze. Come potete vedere, io la mani giù a giù a pronta, parto nella mani giù a farsi un'ombra. E niente, buone vacanze a tutti. Mi raccomando, divertitevi e ricordate che divertimento al fine a se stesso. Ma, mi raccomando, mi raccomando, di ricordate che mi raccomando. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.